E oggi qui sul Prato di Pontida, anche la Presidente Bold, allora come può cambiare nel concreto questa Europa dopo il voto delle recenti elezioni europee? Io credo che cambierà e non poco perché è cambiato l'orientamento del Parlamento europeo nel suo complesso, che ha avuto una forte virata a destra rispetto al precedente Parlamento europeo. Non solo la Lega, noi abbiamo l'esempio della Lega qua in Italia, ma anche in altri Stati, forze che gli altri definiscono xenofobe, io definirei forze che valutano più attentamente alcuni dei problemi che noi da sempre poniamo in Europa, hanno finalmente una buona rappresentanza. Potranno cambiare anche gli equilibri in Europa? Sicuramente cambieranno gli equilibri, sicuramente io penso che usciranno decisioni più ponderate proprio riguardo i confini che deve avere questa Europa, l'identità che deve avere questa Europa e come l'Europa si deve porre nei confronti del mondo.